Non cessano le polemiche relative all'intitolazione della Pinacoteca Comunale di Sulmona. Ora le polemiche si spostano anche sull'intitolazione del Premio Sulmona a Gaetano Pallozzi, il Circolo di Arte e Cultura del Quadrivio. Ha diffuso un comunicato col quale precisa che il Quadrivio, organizzatore del Premio Sulmona, è un ente di diritto privato e come tale può scegliere, in accordo con i propri soci, a chi intitolare le singole edizioni della manifestazione. Il comunicato non lo dice, ma fa riferimento ad un altro comunicato diffuso dalla Commissione Toponomastica e ripostato da alcuni giornali, la quale, tra l'altro, afferma, inoltre del tutto arbitraria ed illegittima, sia perché non supportata l'alcun atto amministrativo, sia perché decisa da organismi che non hanno competenti in materia, è anche l'intitolazione del Premio Sulmona a Gaetano Pallozzi, peraltro sancita quando il maestro era ancora in vita. Occorre dire subito che il Premio Sulmona non è un luogo pubblico, non è una via, non è una piazza, non è una struttura pubblica, ma è una manifestazione, una rassegna d'arte, promossa e gestita da primati cittadini, organizzati nella figura giuridica di associazione. Appare chiaro sotto il profilo giuridico che il Premio Sulmona non rientra nella disciplina dell'articolo 2 della legge 1188, pensate, del 1927, scritta 100 anni fa. Molto esplicito il comunicato del quadrigo a questo punto dice che a ciò dobbiamo aggiungere che riferire ad un ente di diritto privato un supporto amministrativo è palesemente errato. Non usa mesi termini il comunicato, si tratta di un errore. Considerato con tale definizione si intende un atto posto in essere da una pubblica amministrazione. Il quadrigo certamente non è una pubblica amministrazione. Ancora più decisa la conclusione del comunicato. In ultimo rimarchiamo, prosegue il comunicato e conclude, che il Premio e il Pinacoteca sono due cose ben distinte. La Pinacoteca è nel patrimonio del Comune Sulmona, il Premio no. Con un secco no il quadrigo chiude la questione.